vada e ziki salve ciao 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 il prossimo ok è aperto sediti per favore cosa vorresti? ok wow quale preferisci? ok bellissimo ok wow wow grazie prego ciao 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 ho bisogno di una nuova conciatura ok aspetta un minuto sorpresa sorpresa ok oh capelli blu oh forse la prossima volta ok 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 oh 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 mi piace questo luco wow ciao 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 il prossimo io io ok ok ciao siediti ok cosa vorresti? vorrei un massaggio ai piedi ok 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 che rilassante ho bisogno di una manicure oh che dispositivo fantastico oh grazie wow è magnifico avete un salone fantastico starai benissimo che salone fantastico che salone fantastico wow ok abbiamo finito grazie credo sia abbastanza per oggi niki chiudiamo per oggi siamo chiusi ok